Abbiamo chiamato l'obitorio. L'ospedale è, indovina cosa, Sherlock? Nessun cadavere di una giovane donna. Per l'esattezza, nessun cadavere proprio. Grazie per l'aiuto. Figurati, cugino. È un messaggio di Elizabeth. Bene, leggilo. Così avremo risolto. Scusa, siamo andati troppo di fretta. Sono tornato al college. Mi serve tempo per pensare. Ti chiamo presto. Cartellino giallo. Non è possibile. So che fa male, ma vedi l'altra faccia della medaglia. Almeno sai che sta bene. Io la chiamo. Mike, calmati. Ma che stai facendo? Hai un'intera città qui che ti ama. È solo una ragazza. Smettila. Io sono Elizabeth. Ora non posso rispondere. Scommetto che è colpa del suo ex ragazzo. Eddie? Come fai, acconciuto? Lei ha ricevuto una telefonata da Eddie l'altra sera, mentre tu parlavi con te. Cosa? Perché non mi hai detto niente? Perché non mi sembrava importante fino adesso. Merda. Sai qual è il problema, secondo me? Che tu non sei mai stato rifiutato prima d'ora. È vero? Non mi va a risentire questa situazione. No, no, invece le dovrai ascoltare, perché hai bisogno che qualcuno ti faccia ragionare. Mike, sei tornato qui per ritirare la tua maglia. Sei l'unico in questa città a cui è successo qualcosa di straordinario. Riesci a capire cosa vuol dire per me stare seduto su questa sedia e vedere te che mandi all'aria tutto questo per una ragazza che non ha neanche il coraggio di dirti in faccia che è finita. Lei è andata al motel perché così era più facile potersi sbarazzare di te. E tu vuoi stare con una così. Non ti compatisco. Sai che ti dico? Fa un culo, andiamo a divertirci. Vediamo, così mi piaci. Chiama Zia Rita e dille di tenerci i posti al caldo. Niente strip club. Sto scherzando. Zia Rita è in pensione. Si è ritirata. Andiamo da Pitt? No, anche Shelby va lì stasera. Ok, allora andiamo da Pitt.